Bisognerebbe togliere un mucchio di impedimenti che l'industria italiana ha per competere, la burocrazia è un peso che è molto più elevato in Italia che negli altri paesi. L'altra questione grossa è la tassazione, però lì per ridurre le tasse bisogna trovare delle fonti di finanziamento, ce ne sono due, una è ridurre l'evasione fiscale e l'altra è la revisione della spesa, la spending review. Perché finanziare il taglio dei tassi in debito secondo me è una cosa assurda per un paese come l'Italia, soprattutto perché abbiamo un debito pubblico già molto elevato, sarebbe rischiosissimo. Spread in rialzo, cosa succederà nei prossimi mesi per quanto riguarda gli investitori esteri? Io in realtà pensavo che lo spread avrebbe cominciato ad aumentare in estate, in autunno, abbiamo già cominciato adesso, la cosa mi preoccupa perché siamo ancora a livelli abbastanza sopportabili però se partiamo a questo livello la discussione sulla legge bilancio deve ancora cominciare dopo l'estate, mi preoccupa molto questa cosa.